Roberto Masotti è un fotografo, fotografo di soprattutto dedicato alle arti performative, molto alla musica all'interno delle arti performative e all'interno della musica se vogliamo c'è un percorso più marcato sul jazz, sulla musica contemporanea, poi inevitabilmente la musica classica, l'opera, con il lungo lavoro della scala e questo è. Nasce dalla passione, sì, sicuramente, perché se non ci fosse stata la passione della musica non avrei cominciato a fotografare in quelle occasioni, ma la fotografia non è una cosa che… c'era già in nuce un qualche idea di mettere assieme queste due cose, poi questa passione è stata anche la passione per l'immagine stessa, per la fotografia, quindi sono due passioni che si incontrano e si nutrono una dell'altra, e il confronto con gli altri io ce l'ho intanto in casa perché è un confronto continuo con Silvia, Lelli, mia moglie e socia, diciamo così e questo è già qualche cosa perché non ti impedisce che tu ti cristallizzi o ti radichi in alcune convinzioni e non ti muovi di lì. Se autenticità ha una parentela, credo stretta, con verità per esempio, a me viene da usare abbastanza spesso questa parola, la verità è anche una verità che è frutto di un gesto deciso, netto per esempio, qualcosa che uno o lo coglie o è meglio lasciare stare. Penso di aver realizzato nel tempo dei percorsi che sono particolarmente intensi, cioè un raggrumarsi di immagini che distillate appunto nel tempo e magari a fianco di per esempio di personaggi o anche se vogliamo di temi che io ho particolarmente seguito. Per esempio è l'uscita di Keith Jarrett, un ritratto che è un libro che raccoglie un lavoro mio al seguito diciamo così e con questo artista immenso, possiamo anche dirlo, particolarmente rappresentativo di una visione allargata della musica. Questa è una realizzazione che avviene dopo molti anni, molto tempo e che mi soddisfa anche un bisogno interiore di mettere su carta, di elaborare questo documento che è stato pensato proprio quasi dall'origine, cioè è un pensiero che si è accresciuto nel tempo e ha trovato una sua forma. Se tu non avessi fatto il fotografo chi sarebbe Roberto Masotti? Una ballerina del Bolshoi o un grande chitarrista rock.